In questo video vedremo 5 trucchi che vi aiuteranno a risparmiare più di 1000 euro all'anno con piccole accortezze da mettere in atto e che richiedono poco tempo ed energie. Risparmiare è una cosa molto difficile, soprattutto se non sappiamo quali spese tagliare. Ma non è sempre necessario rinunciare a qualcosa che vi rende felici per mettere qualche soldo da parte. Il vero segreto del risparmio è la pianificazione e condenserò questo concetto in 5 trucchi facili e alla portata di tutti. Ma prima mi presento. Ciao a tutti amici e amici, sono Alessio Serio, esperto in digital economy e finanza personale e vi do il benvenuto su Finanza Personale for Dummies, dove si impara ad analizzare e gestire le proprie finanze ed infine a risparmiare. Passiamo subito al primo trucco, utilizzare siti internet per confrontare le tariffe. Conoscete tutti questi siti che mettono a confronto le tariffe dei più svariati servizi che paghiamo costantemente per usufruirne, che siano le utenze di casa, internet o ancora l'assicurazione dell'auto, per concludere con la rata del mutuo. Periodicamente, una volta all'anno, sarebbe l'ideale fare un resoconto di ciò che pagate per queste spese e confrontarle con ciò che offrono i competitors sul mercato, attraverso appunto questi siti internet dedicati. Vi stupirete come si possa arrivare ad un risparmio di 200-300 euro all'anno, perdendo poche ore della vostra vita. Vi ricordo di tenere conto però dei costi di attivazione e dei vincoli contrattuali. Questi erodono i risparmi ottenuti, ma sono certo che riuscirete nel vostro intento. Il secondo trucco, pianificare i pasti. Uno dei più diffusi modi di sprecare denaro è quello di buttare via gli avanzi. Ogni giorno vengono gettate via tonnellate di cibo derivanti dagli scarti delle preparazioni, ma anche dagli avanzi che si accumulano ogni giorno. Un metodo super efficace che ho testato personalmente e che tuttora metto in pratica è quello di mettermi a sedere con mia moglie una volta alla settimana, solitamente nel weekend, e pianificare i pasti per la settimana successiva. Non immaginate quanto cibo risparmierete, anche perché viene fatto tutto in funzione anche delle offerte dei supermercati dell'intorno o dei grandi ipermercati della vostra città. Quindi, oltre a gestire il denaro utilizzato per comprare cibo, si ottimizza la distribuzione giorno per giorno dei pasti. Questa piccola abitudine permette di risparmiare fino a 200 euro al mese. Terzo trucco, ruotare gli abbonamenti della PTV. A tutti piace guardare le serie TV più famose o un film assieme ai propri cari quando torniamo a casa la sera. Purtroppo, però, molto spesso accade che la nostra serie preferita si trova su Netflix, mentre quella della nostra compagna è su Prime Video o su Now TV. Questo ci costringe ad avere attivi diversi abbonamenti in contemporanea, che se presi singolarmente costano al massimo una decina di euro. Assieme, invece, tutto il mucchio toglie dalle nostre tasche una cifra compresa tra i 20 e i 50 euro al mese. Un po' troppo per quel che mi riguarda. Cosa fare per risparmiare, visto che qualcuno, per esempio come Netflix, ha già iniziato a impedire la condivisione degli account e quindi tutti presto lo seguiranno a ruota? Semplice, fate un planning di ciò che volete vedere e ruotate gli abbonamenti mensilmente, così da averne soltanto uno attivo ogni mese. Mi sorprenderà come la spesa si ridura drasticamente, facendo sì che rimangono le vostre tasche dai 120 euro ai 300 euro circa all'anno. Quarto trucco, compri solo su Amazon? Prova Temu. Innanzitutto voglio dire che non è una sponsorizzazione, però ormai noi tutti sappiamo che quando abbiamo bisogno di qualcosa andiamo su Amazon per cercarla. Dalla roba di consumo, passando per la tecnologia, fino ad arrivare anche al cibo. Sicuramente Amazon è molto competitivo come prezzi e sicuramente ha il grande vantaggio di farvi arrivare a casa quello di cui necessitate in uno o due giorni. In questo è imbattibile, lo ammetto. Ma anche sotto questo aspetto, se non avete fretta di avere l'oggetto che tanto desiderate, vi basterà andare a vedere su Temu, un'app che da poco tempo sta spopolando, anche grazie alla grande pubblicità che sta facendo su tutti i social, e devo dire che, provandola personalmente, offre un ottimo servizio. Non voglio scardinitare Amazon, come ho detto, ma Temu mi ha stupito in positivo, perché oltre a trovare oggetti qualitativamente al pari del corosso americano, i tempi di spedizione e di consegna sono molto rapidi. In una settimana ho ricevuto quello che avevo ordinato, è chiaro che, come su Aliexpress, c'è tanta roba di scarsa qualità, ma se fate una ricerca un po' più approfondita, troverete ciò che vi serve ad un prezzo decisamente conveniente. Quinto e ultimo trucco, allenati a casa e all'aperto. Ogni anno spendiamo centinaia di euro in abbonamenti per le palestre. Io stesso in passato ho lasciato abbonamenti quasi interi, senza sostituirne nella totalità. Allenarsi è importante, ma come fare a risparmiare i nostri soldi mantenendoci in forma? Semplicissimo. Allenati nei parchi, corri in itinerari che trovi sulle app come ad esempio Strava, oppure se siete pigri mettete un bel canale YouTube che parla di fitness e allenatevi nel vostro salotto. Così sarete a due passi dalla doccia. Del resto, allenarsi deve essere semplice e alla portata di tutti. Sollevare ghisa in palestra non è l'unico modo per far contare i muscoli e molto spesso non è anche quello di cui abbiamo bisogno. Oggi abbiamo la fortuna di poter utilizzare la tecnologia per aiutarci anche in questa pratica. Vi lascio alcuni link in descrizione di personal trainer e canali per l'allenamento. Vi consiglio inoltre di farlo con la vostra compagna o con vostra moglie. Vi aiuterà a rinsaldare il rapporto e condividere del tempo beneficerà la vostra vita di coppia. Siete giunti alla fine di questo video e vi chiedo un ultimo sforzo. Iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e lasciate un commento. Apprezzeremo questo vostro gesto che ricordo essere gratuito. E da Finanza Personale Ford Ammiss è tutto e dal prossimo passo verso una gestione consapevole del vostro denaro. A presto!